Salone di Ginevra che non c'è, Mercedes si sarebbe presentata in Svizzera con una bella novità, la classe E restyling. È vero, non è una nuova generazione, si tratta soltanto, tra virgolette, di un facelift, però si parla comunque di un'auto fondamentale. Pensate che la classe E di ultima generazione, che è la decima della storia mercedese, è già stata venduta dal 2016 a oggi in 1,2 milioni di unità. Quindi un'auto importantissima nella storia della Stella e che continua a essere veramente il cuore della gamma Mercedes. Come cambia con questo restyling di metà carriera? Intanto l'estetica la trovo molto più elegante, molto più filante questa classe E 2020. Nuovi paraurti, più dolci, anche nuovi gruppi ottici che sono ovviamente a LED sia davanti che dietro e si possono avere anche i multibeam, quindi i fari LED a matrice. Quindi arriva anche una nuova calandra, anche qui devo dire nel seno dell'eleganza e nuovi colori, come spesso accade con i facelift. Il restyling riguarda tutta la gamma della classe E che lo sapete è molto articolata, quindi berlina, station wagon e anche la all terrain, quindi la versione diciamo più alta da terra, pensata un po' per la guida lontana dall'asfalto, che in occasione del facelift è stata rivista nell'estetica proprio per sottolineare questo legame di appartenenza con la guida un po' in off-road. Attenzione però perché la versione a passo lungo dedicata ai mercati asiatici, quella coupé e quella cabrio, anche loro verranno interessate dal restyling ma arriveranno solo in un secondo momento. Novità però anche negli interni, ora tutte le versioni hanno di serie i due display appaiati da 10,25 pollici, invece le versioni più ricche, a pagamento diciamo, si possono avere sempre due display ma più grandi. 12,3 pollici, ovviamente è presente ora l'ultima evoluzione del sistema multimediale MBUX che oltre agli ormai famosissimi comandi vocali e i Mercedes aggiunge anche la realtà aumentata. In che termini? Beh, durante la navigazione per esempio il sistema è in grado di identificare i numeri civici oppure di evidenziare la luce del semaforo accesa in tempo reale, per esempio se siamo distatti e ci siamo persi il verde. Debutta anche un nuovo volante un po' più sfizioso che mantiene le superfici a sfioramento sulle razze ma cambia la tecnologia, non è più ottica ma capacitiva e questo promette di regalare una migliore interfaccia diciamo uomo macchina. La gamma motorizzazioni come spesso, anzi direi sempre in casa Mercedes è assolutamente articolata e sì perché pensate che ci saranno ben sette ibride plug-in con schema a trazione posteriore o a trazione integrale. E poi ci sono i classici benzina e i classici diesel, i benzina con potenze che spaziano da 156 a 367 cavalli e i diesel con potenze da 160 a 330 cavalli. La vera novità a livello motorizzazioni è l'arrivo di un nuovo motore 4 cilindri benzina mild hybrid che ha quindi una potenza in più di 15 kilowatt circa 20 cavalli alimentato il sistema mild da una rete a 48 volte. Arriva anche il nuovo 6 cilindri in linea benzina per la prima volta su classe E sempre mild hybrid, ci sono nuovi sistemi di post trattamento gas di scarico per rendere questi motori diciamo omologabili con le più stringenti normative e il cambio 9 citroni che è sempre lui, lo sapete Mercedes si costruisce i cambi in house però è stato perfezionato nelle logiche di gestione. La versione più sfiziosa attualmente disponibile sarà la 53 AMG quindi la AMG piccolina prima di passare quindi alle V8 alle 63 AMG quindi 53 AMG 6 cilindri in linea con doppia sovralimentazione e oltre alla doppia sovralimentazione abbiamo anche un compressore ad azionamento elettrico per rendere istantaneo la risposta del motore al comando del gas. Potenza della AMG piccolina 435 cavalli 520 Nm per metro di coppia e anche qui abbiamo il mild hybrid che aggiunge una ventina di cavalli in più con la rete a 48 volt. Il cambio è diverso perché qui è lo speed shift AMG a 9 marce e c'è la trazione integrale 4MATIC di serie anche qui estetica dedicata per l'AMG che è più cattiva sia a partire dalla calandra cerchi da 19-20 pollici. Insomma la classe E il cuore della gamma Mercedes si rinnova pronta ad affrontare i prossimi tre anni sia a livello estetico che soprattutto tecnologico. A voi è piaciuto questo facelift o vi piaceva di più la classe E precedente che ha debutato nel 2016? Raccontatemi noi commenti qui sotto ciao alla prossima novità. Grazie per la visione!